Guardando un po' la realtà della diocesi dal 24 agosto ad oggi, mi è venuta subito l'immagine del deserto. Sarà pure un simbolo, però era una realtà concreta per il popolo di Israele, è stato per Gesù all'inizio della sua missione, i 40 giorni nel deserto, e quindi il deserto da esperienza diventa simbolo e chi lo riflette come simbolo lo rivede nell'esperienza. Che cos'è? La solitudine, il sentirsi privo di qualsiasi mezzo, disorientato, e ogni esperienza che si vive però nel deserto apre anche in qualche modo alla speranza. Io ho individuato questa speranza, per esempio, nel fatto che nel deserto ci sono delle oasi, quindi riferimenti concreti alla famiglia, ai giovani, ai poveri, perché oasi? Perché laddove si ricrea una vera relazione interpersonale, relazionale, c'è sempre la possibilità di ricostruire. Lei ha detto che quest'anno, proprio durante la Quaresima, andrà di più sul territorio. Sì, attraverso l'Alexio Divina, un'esperienza fatta lo scorso anno, ma posso dire che nelle precedenti domeniche, proprio dal mese di gennaio, dal 15 gennaio, io ho cominciato a girare, soprattutto per visitare quelle località e quelle parrocchie nelle quali si avverte la conseguenza del terremoto, la conseguenza della neve, eccetera. E ho incontrato diverse persone e mi sono reso conto anche di come alcune località, penso Poggiunbricchio, era rimasta una sola persona, per caso, evacuato completamente il territorio. E questo per me è veramente un punto che mi fa riflettere, e dovremmo riflettere tutti quanti, se questi piccoli borghi, già densamente abitati, soprattutto, ed inverno, ma soprattutto d'estate, debbano finire così, o debbano ritornare alla loro vitalità. E quello io ve lo auguro, perché si perderebbe una tradizione e una, come dire, una ricchezza specifica dell'Abruzzo, soprattutto del Terramano, da parte della montagna.